Multiforme Ingegno Terra Fertile è il titolo di un docufilm, di un documentario che sarà presentato nei prossimi giorni. Un documentario molto particolare dedicato a un personaggio della cultura lecchese, Alfredo Chiappori. Ne parliamo oggi con Bruno Biagi, benvenuto all'EcoFM. Benvenuto a voi, grazie. Presidente dell'associazione I Promessi Sposi in Circolo, un'associazione che ha promosso, ideato questo documentario. Prego, signor Biagi, ci illustri di che cosa stiamo parlando e qual è la novità insita in questo progetto? Allora, la nostra associazione, come dice il titolo, si prefigge di essere, di divulgare a livello popolare I Promessi Sposi. Però nel nostro statuto abbiamo voluto proprio inserire anche questo aspetto di interessarsi di tutti quegli aspetti culturali che possono dare prestigio alla nostra città e che sono stati un pochettino o trascurati o non sufficientemente valutati. Nel 2020, d'accordo con proprio tutti i soci della mia associazione, abbiamo pensato questo progetto, partendo dal presupposto che l'Eco è veramente una terra fertile dal punto di vista delle storie che contiene di personaggi che hanno dato tanto alla cultura e conseguentemente anche al prestigio del nostro territorio, però che non sono sufficientemente valutati. Io me ne sono accorto, facendo il lavoro che ho fatto per 35 anni, quello di vendere i libri, e quindi essere in contatto anche con grandi personalità del mondo dell'editoria e del giornalismo che abbinavano spesso al fatto che io ero di Lecco e allora mi citavano nomi. Per esempio nel caso di Alfredo Chiappoli, che io conoscevo sin dal 1968, dal 1968, ero consapevole che era un personaggio importante. eravamo amici, vedevo le sue performance straordinarie, però non mi ero reso conto che fosse collocato a un livello così alto, a livello nazionale. Certo. E da lì questo intento appunto di scoprire, e abbiamo presentato al Comune, nella figura dell'assessore Piazza, che allora nel 2020 era assessore alla cultura, adesso lo è ancora, però è anche vice sindaco, questo progetto che si articola su, noi l'abbiamo presentato, un progetto che si articola su quattro anni, su quattro personaggi, vediamo, e abbiamo puntato su Alfredo Chiappoli. Che è il primo di questi documentari, di questi, come dire, strumenti per non perdere memoria dei personaggi lecchesi. Esatto. In ambito culturale. Proprio questo, quello di proprio fare memoria di questo, che ci fosse un documento. Certo. Che anche i giovani, fra qualche generazione, possono consultare e vedere che non vada perso. E soprattutto per uscire anche da questa sorta di provincialismo che ci caratterizza tutte le città come le nostre, insomma, ecco, che tendono sempre a sottovalutare le bellezze oppure i personaggi che ci sono. E quindi avete pensato a uno strumento comunque agile e piacevolmente fruibile, come quello che è un documentario, nel quale, tra l'altro, il protagonista, cioè Alfredo Chiappoli, in questo caso, proprio svela se stesso. Sì, allora, lei Barbara ha fatto bene a chiamarlo uno strumento agile, però mi siamo resi conto che è molto impegnativo. Sicuramente. Perché per arrivare a 40 minuti di proiezione abbiamo girato qualcosa come quattro ore. E poi dietro c'è tutto un lavoro di formazione per creare la sceneggiatura, quindi l'intervista con Alfredo Chiappoli, suddividere quelli che potevano... Alfredo Chiappoli, un personaggio eclettico, ha molte proprio sfaccettature, multiforme ingegno, non a caso. Quindi individuare quali potevano essere gli aspetti che caratterizzavano maggiormente la sua attività. intervistarlo, fare la scaletta, incontrarci con gli operatori, con tutta una squadra veramente bravissimi, entusiasti e poi fare, girare le scene, gli aspetti rispetto alla scaletta che avevamo individuato. individuare anche i luoghi, perché l'intento è anche quello di valorizzare la città contemporaneamente. Quindi abbiamo girato anche in alcuni luoghi specifici, Villa Manzoni, la biblioteca, il Palazzo delle Paure, Teatro Invito e poi le vie, dove è cresciuto Alfredo. Ecco, questo documentario sarà presentato settimana prossima. Qual è l'appuntamento? Dunque, allora, lunedì 2 maggio, alle 18.30, al nuovo cinema Aquilone, in via Parini, verrà la prima proiezione, è riservata appunto alla stampa e agli invitati. Poi ci sarà una seconda proiezione immediatamente dopo, alle ore 21, aperta al pubblico. E dal riscontro che sto avendo in questi giorni, siamo molto contenti perché... Tanti hanno aderito, insomma, ecco... Sono curiosi di scoprire o di riscoprire chi sia Alfredo Chiappori, perché magari i più giovani non hanno sott'occhio il personaggio, che è un personaggio appunto, come lei prima diceva, multiforme, perché è partito appunto un po' come artista, come insegnante. Parliamo di un uomo che è stato anche alla scuola di un importante pittore lecchese, quale Sora. E poi, forse, i motivi per i quali lo conosciamo di più sono quelli dedicati alla satira, alla satira politica, e che l'hanno reso famoso perché noi sappiamo che è stato citato, è stato valorizzato da critici, non so, da Argan, che diciamo uno dei massimi studiosi della storia dell'arte, ma anche Umberto Eco, perché comunque Chiappori ha collaborato con le più importanti testate giornalistiche italiane e poi nella sua multiforme produzione, oltre appunto a questa grafica graffiante satirica con il personaggio di cui lei ha una chicca, questo app, il solversivo, poi non ha tralasciato comunque la scrittura perché è stato autore di romanzi e poi c'è anche questa parte che ha occupato gli ultimi anni, gli ultimi decenni con una ricerca sul colore, sull'arte, legata più all'aspetto spirituale. Quindi diciamo siamo davanti ad un artista completo. Ecco, quali sono, qual è un po' la parabola di Chiappori? In una cittadina poi comunque provinciale come la nostra? Ecco, è veramente un personaggio, quando abbiamo pensato al sottotitolo da mettere a terra fertile abbiamo pensato subito a Multiforme Ingegno, quindi questo richiamo anche a Ulisse. Fra l'altro Alfredo non ha la patente di guida, è l'auto, però ha la patente nautica. Quindi è un grande navigatore, proprio ha solcato tutti i mari. E quindi diciamo che quando io l'ho conosciuto nel 66, 66 era supplente all'istituto Parini, insegnava però la sezione geometri che allora era all'interno del Parini. Poi, e quindi come insegnante, e lui ha avuto, anche poi dopo il passato di ruolo, con tanto di concorso, lì ci tiene proprio a ribadirlo, una volta che si è diplomato alla scuola d'arte di Fano, è andato al liceo Grassi. Io frequentando, frequentavano la mia libreria tanti studenti del Grassi e tutti con orgoglio dicono che noi abbiamo chiappoli come insegnanti di disegno e di storia dell'arte. In effetti è uno che ha lasciato anche nella scuola un bel segno. Diciamo che lui aveva subito questo, sin dal ragazzo, questo istinto proprio di alpittore e ha partecipato anche ai concorsi cittadini, ha vinto il premio Mori nel 66. Poi dopo ha avuto la fulminazione, diciamo, del disegno satirico. Lo diciamo bene, non vogliamo togliere il gusto di vedere il documentario, proprio come è stata la sua scesa. E questa grande invenzione di Up e il sovversivo, quindi innanzitutto il segno, sono silhouette bianco e nero. Essenziali. Essenziali e poi anche questo gusto della caricatura, pochi segni. Con questo personaggio rovesciato, proprio che vede il mondo in una prospettiva diversa, e con questo personaggio ha sfondato. Poi c'è stato un passaggio successivo, dal passaggio dal bianco e nero al colore, quando ha fatto le storie d'Italia a Fumetti, che è un capolavoro, consiglio proprio di andarlo a vedere, anche qui sempre con questo rigore che ha caratterizzato tutto il lavoro di Chiappori. Lui studia tantissimo e anche per fare queste storie d'Italia, quattro volumi. E lì è passato al colore, cioè quindi sempre la striscia, ma colorata. E lì è stato anche un po' un ritorno alle sue origini. Da lì poi ha collaborato, appunto come diceva Barbara, con le più importanti testate, ricordo Panorama, le sue pagine intere con la caricatura o di Craxi o di Fanfani o di Andreotti. Erano anni comunque difficili dal punto di vista politico, c'era un fermento e anche una certa contrapposizione piuttosto marcata. Erano anni difficili, però erano anni molto prolifici per i disegnatori satirici. Chiappori è stato il precursore, perché prima di lui non c'era questo gusto della satira politica attraverso il disegno. E quindi offrevano tantissimi spunti, c'erano delle sue battute con le caratteristiche che sono diventate poi proverbiali. A proposito di Andreotti c'era una voce fuori campo, questa striscia, con una voce fuori campo che diceva, ma Presidente come fa ad avere sempre la coscienza così pulita? E un Andreotti che ghignava, per forza mai usata. Ecco, e quindi però... Graffiante. Graffiante, mai stato... Querelato? Querelato, mai. Quindi... Quindi anzi, faceva una gara per avere gli originali, Craxi e compagnie, insomma. Quindi ha cavalcato questo periodo storico, politico d'Italia, appunto con questa satira graffiante, riconosciuta come esemplare e anche molto capace di leggere il momento storico. Non solo, ripeto, poi quando lui... Il secondo libro che ha fatto per Feltrinelli è stato Al Freud. Al Freud, quindi questo gusto anche di parodiare un po' tutta questa mania che c'erano in quegli anni della psicanalisi, eccetera, però Alfredo non si è risparmiato, ha studiato i testi. E quindi se vediamo quel secondo libro era un pochino più difficile rispetto, non era così immediato come potete. Poi dopo c'è stato Tali e Quali, Il Bel Paese, che hanno continuato su questa strada. Contemporaneamente lui non aveva mai abbandonato la pittura. Ha avuto poi questo passaggio, ripeto, con le storie d'Italia al colore e poi ha avuto anche questa parentesi straordinaria per l'Ecco, ha dato un contributo molto importante sul teatro. Esatto, quindi anche, diciamo, non solo un artista che, abitando a l'Ecco, come dire, poteva dire qualche cosa anche della nostra città, ma si è impegnato nella vita culturale della città stessa. E in maniera anche molto generosa, molto generosa. Lui è stato consigliere comunale, nelle liste del PC, però non essendo mai iscritto al partito, e in qualità di consigliere ha contribuito tantissimo. Gli è stato affidato, allora, voglio dire, la amministrazione che erano quasi tutti i DC, gli hanno affidato il discorso della direzione del teatro. E lì è stata una intuizione felicissima, intelligente, perché lui ha dato tantissimo e si è messo a lavorare. Quindi diciamo che questo documentario che sarà presentato lunedì 2 maggio è proprio, come dire, uno strumento per ricordare e fare tesoro di questo personaggio. E anche, insomma, per mettere un po' in salvo questa eredità e sperare che venga accolta e accolta. Sì, soprattutto per far sì che l'Ecco sia orgogliosa di questi personaggi. E' questo aspetto che ci manca un pochettino, perché viviamo in una città bellissima. Manzoni stesso dice che è uno dei posti più belli del mondo. E vedrete nel documentario che c'è anche una citazione a questo proposito. E in più che è una terra fertile da questo punto di vista culturale e dobbiamo adesso avere questo senso di appartenenza, orgogliosi di appartenere a questo territorio. Benissimo. Quindi io ringrazio il signor Biaggi per averci dato qualche spunto, qualche input per incuriosirci e correre al nuovo Aquilone lunedì per vedere questo primo documentario, docufilm, dedicato ad Alfredo Chiappori, che sarà presente in sala. Alla prima proiezione, senz'altro. Poi, diciamo così, non è nel fiore degli anni e quindi la sua resistenza non sa se si fermerà anche a quello delle 21. Volevo precisare che poi questo documentario sarà fruibile da tutti, perché il Comune lo mette a disposizione. Quindi con tutte queste nuove tecnologie... Sarà possibile vederlo e apprezzarlo. Apprezzarlo e poi dopo Chiappori si è anche dichiarato disponibile ad andare nelle scuole, andare nelle biblioteche, per eventualmente per creare ancora questa conoscenza. Benissimo. Quindi appuntamento a lunedì alle 21 al nuovo Cinema Aquilone. Quindi grazie al signor Biaggi. Grazie a voi. Benissimo. Andiamo ad apprezzare Multiforme Ingegno. Grazie. 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 Grazie.